a Laurea e Chiara, perché appunto come famiglia noi, abbiamo parlato tanto di famiglia, volevamo presentarvi questo progetto di cui noi ci fanno promotori, adesso vi spiegano e vi dicano per bene chi sono e che cosa fanno. Allora, ciao a tutti, sono Chiara e appunto vi volevamo parlare un po' dei giovani per un mondo lì e delle iniziative che appunto fanno completamente anche nelle nostre realtà, quindi nelle nostre città. Allora, con Giovani per un mondo unito insegniamo innanzitutto un gruppo appunto di giovani di tutto il mondo, dai 14 anni fino a anche 30, che appunto sono dei ragazzi un po' speciali, nel senso che hanno come obiettivo quello di realizzare concretamente il mondo unito. Questo obiettivo che è molto grande cercano di realizzarlo appunto partendo dalle piccole azioni che fanno nella propria vita, quindi piccoli genti quotidiani cercando di appassionare tutte le differenze che possono creare degli ostacoli a costruire questo mondo unito. Appunto, di questi ragazzi fanno parte non solo credenti, quindi cristiani, ma anche ragazzi che hanno convincenze religiose diverse dalle nostre, oppure atei, quindi non credenti. Sono tutti però comunati da appunto questo obiettivo che si rispetta molto nella regola d'oro, che è appunto la regola che troviamo anche nel Vangelo, che dice fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E appunto se mettiamo in pratica questa regola quotidianamente questo nostro grande obiettivo potrebbe essere realizzabile. Oltre appunto a impegnarsi quotidianamente quindi nelle proprie famiglie, nelle proprie realtà, fanno anche molte iniziative sia a livello locale, quindi nelle proprie città, che a livello mondiale. A livello locale infatti abbiamo molte iniziative a partire dalla settimana a Monti Unito in cui facciamo proprio delle iniziative specifiche e a livello mondiale altrettanto, infatti abbiamo ad esempio fatto il Genfest giusto quest'estate, come proprio festa iniziale ma anche conclusiva di questo grande nostro percorso. Tra l'altro ad esempio proprio ieri erano quattro anni dal terremoto in Abruzzo e i giovani per il mondo unito appunto quattro anni fa sono andati ad aiutare concretamente, oppure quando due anni fa c'è stato l'alluvione anche qui in Toscana, si sono mossi, quindi si mettono in gioco in prima persona per realizzare questo grande scopo. E adesso parliamo anche di un progetto che stiamo portando avanti proprio noi, i giovani per il mondo unito e che ci vede impegnati in prima persona. Questo progetto si chiama United World Project, che è stato lanciato, come diceva Chiara, Genfest quest'estate, che era praticamente in realtà un grande incontro dove ci sono stati 12.000 giovani che hanno tutti come obiettivo la realizzazione del mondo unito e vivere giorno per giorno la regola d'oro che è come nel Vangelo anche in altri libri sani, quindi è anche riconosciuta da tutte le altre grandi religioni. da regola d'oro a fare gli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, ed è questo l'impegno degli United World Project, di vivere la regola d'oro, di vivere la fraternità universale giorno per giorno, in tutti i nostri aspetti della vita. Infatti diciamo che il United World Project è suddiviso in tre sottogruppi, diciamo. Uno è il network, che ha lo scopo di realizzare una rete sociale su tutto il mondo con la firma e l'impegno da tal parte di tutte le persone che vogliono raggiungere la fraternità universale e il mettere in pratica la regola d'oro in ogni rispetto della propria vita. Delle firme con lo scopo di presentare queste firme ai membri dell'Ono e dell'UNESCO, il primo maggio a Gerusalemme ci sarà una grande manifestazione dove saranno presenti appunto membri dell'Ono e dell'UNESCO al quale noi presenteremo le firme firme e oltre anche alle firme delle schede, delle schede dove sono presenti dei trammetti di fraternità. I trammetti di fraternità sono un'altra parte del punto di questo progetto, i trammetti di fraternità che sono ogni azione, ogni azione che noi facciamo per raggiungere la fraternità universale, che possono essere piccole come quelle che magari facciamo tutti i giorni anche nella propria famiglia e anche quelle un po' più grandi come diceva la Chiara dell'Abruzzo, dell'alluvione alle Cinque Terre, anche l'altro giorno siamo stati alla marcia per libera, quella che c'è stata per le vittime della mafia, quindi anche la nostra partecipazione queste sono tutti frammenti di fraternità. Un'altra cosa molto interessante di questo progetto come dicevo prima, la realizzazione e appunto il presentare queste film e le schede ai membri dell'ONU e dell'UNESCO, dove appunto a Gerusalemme chiederemo il riconoscimento della settimana Mondo Unito, che quest'anno va dal 1 maggio fino al 12, non è proprio una settimana, però il 12 è la domenica dopo, quindi si è dovuto fare così, il riconoscimento della settimana Mondo Unito a livello internazionale dalle Nazioni Unite come patrimonio dell'umanità, perché diciamo che appunto il nostro obiettivo è che tutto il mondo senta la presidenza universale come un impegno proprio. Questo è il nostro progetto, noi ci piacerebbe, lo volevamo presentare a voi perché ci piaceva appunto l'idea che potete conoscere questo progetto e che se volevate sottoscriverlo ci saranno le firme al banchino là in fondo, credo, o a qualche altra parte. O su internet, giusto? Giusto, internet c'è appunto il sito del United World Project che è unitedworldproject.org e appunto c'è la presizione online dove appunto si può firmare lì, dove non c'è bisogno di grandi cose della tua nome, cognome, indirizzo, mail, non si è potuto fare una presizione un pochino più specifica perché essendo mondiale non abbiamo potuto mettere la carta di liquidità o appunto il riconoscimento personale perché in molte nazioni era un problema dal punto di vista di privacy, quindi abbiamo dovuto farla così ma appunto niente, è questo. Grazie, allora ci sarà un foglio per le firme da in fondo e uno su alla reception. Grazie mille per l'attenzione.